Ciao amici di Italia Top Games, oggi torniamo a parlare di Man of the Match, perché? Perché ci sono molte novità ufficiali su questo progetto ambizioso di questa start-up Software Office si chiama lo stesso modo del gioco, Man of the Match Vedremo il primo trailer ufficiale, vedremo molte nuove informazioni su come funzionerà questo gioco che non è solo free to play ma è play to earn, come vedremo ma leggeremo anche le perplessità di alcuni influencer, di alcuni importanti influencer che seguiamo da anni, i footballer John Royals, che hanno espresso le loro perplessità sul progetto Oggi purtroppo è venuto a mancare un grande giornalista come Andrea Purgatori ovviamente non mi posso paragonare a lui, però lui ha sempre cercato di affrontare il suo mestiere ponendo dei dubbi, cercando sempre la verità con la V maiuscola Allora, ci occupiamo di Man of the Match, speriamo davvero che sia un progetto interessante ma ci sembra opportuno segnalare anche chi invece è perplesso rispetto di questo progetto lo facciamo per i football, lo facciamo per i sport FC, lo facciamo per i UFL, lo facciamo per il football manager e anche in questo caso vogliamo dare una completezza di informazione poi l'opinione la decidete voi, io vi faccio vedere sia il materiale ufficiale di Man of the Match il trailer e tutte le loro dichiarazioni che sono avvenute tramite il tweet e sia appunto i influencer che invece sono un po' scettici poi voi decidete cosa pensare, non c'è bisogno poi di avere un'opinione definitiva adesso perché il gioco prima del 2025 non esce Allora, vediamoci subito il trailer e ci togliamo questo peso Allora, vediamoci subito Allora, vediamoci subito Allora, vediamoci subito In arrivo nel 2025 come vi avevo già anticipato Questo è il trailer, ora vi mostro le voci dissonanti, poco non molto convinte di questo progetto eFootballer, l'abbiamo visto molto spesso per eFootball Scrive, la realtà del progetto Man of the Match è in crowdfunding su Kickstarter a venire Tutto è gratuito ma vi invito a stare attenti, molti progetti compresi giochi con trailer non sono stati mai rilasciati nonostante monte premi importante Questo tweet l'ho visto da John Royals che aggiunge Aspetterò di vedere cosa annuncia nel primo agosto, il trailer che hanno rilasciato attraverso le community non dice proprio nulla Vedremo come va, ma non possiamo dimenticare che veniamo da Frodi come Football Player 2023 e PC Calcio 2024 Insomma, questi due influencer pongono delle perplessità e dei dubbi sul progetto Io ragazzi l'unica cosa che ho fatto è voler controllare, appunto si controllano sempre le informazioni prima di darle In effetti su Kickstarter c'è questo progetto Man of the Match Welcome to the Footballverse Creato da Man of the Match Incorporated, la software house, con 140 follower e c'è scritto prossimamente Quindi le informazioni riportate dai footballer e da John Royals sono vere Quindi Kickstarter ospiterà una raccolta fondi per questo progetto Questo cosa significa? Che Man of the Match è una truffa? No, assolutamente Potrebbe essere un progetto colossale, enorme, incredibile, che prenderà magari piede Però io vi ho riportato le perplessità, lo ripeto, di due influencer che noi abbiamo seguito nel corso degli anni Soprattutto John Royals, ma anche i footballer, e che hanno posto anche loro dei dubbi Non hanno detto che Man of the Match sarà sicuramente una truffa o sarà sicuramente qualcosa di negativo Hanno detto che la situazione è questa, la situazione è un Kickstarter, una raccolta di fondi E questa è la situazione in questo momento Noi continueremo a seguire Man of the Match, assolutamente Con tutta l'onestà intellettuale con cui seguiamo tutti i progetti Però con la stessa onestà intellettuale in cui poniamo critiche e dubbi Quando fa delle cose Konami, quando fa delle cose di sport, quando fa le cose Strikers Ci sembrava legittimo e corretto proporvi tutte, ma tutte le informazioni su Man of the Match Qui abbiamo raccolto anche, adesso torniamo a parlare invece delle dichiarazioni ufficiali Queste sono raccolte informazioni da vari tweet precedenti Che più o meno la traduzione è questa Se un momento è improbabile che si verifichi nel calcio del mondo reale, è improbabile che sia incluso in Mothma Fortunatamente il calcio del mondo reale è uno sport che abbraccia pubblicità Con loghi di sponsor visibili su ogni divisa, intorno allo stadio e persino all'interno del gioco I Man of the Match, i ricavi pubblicitari li passeremo a voi, i nostri preziosi giocatori In un thread precedente abbiamo esplorato il mondo immersivo di Mothma Con preletto di continenti, paesi e club Ora immagina un enorme monte premi reso disponibile dagli inserzionisti del gioco in tutti i paesi e le competizioni Questo monte premi viene poi distribuito tra ogni club in base ai loro risultati in ogni competizione E la parte migliore è che tutti vengono premiati, non solo i vincitori Mothma distribuisce i premi in ordine decrescente con il vincitore che riceve il più e il resto è il viso tra tutti i giocatori Sì anche tu Quindi che tu finisca prima nella prima divisione o ultima nella settima divisione Ti riempirai comunque le tasche L'unica domanda aperta è quanto? Il nostro team Mothma è composto da appassionati videogiochi di calcio E credo che questo sia il gioco che la nostra community meriti davvero Tutte informazioni ufficiali queste qui presenti Andiamo avanti nei tweet di pochissimo tempo fa Oggi, questa mattina, orario italiano Man of the Match è un gioco free to break Che ti permette di giocare come giocatore o allenatore Ma c'è anche un ruolo importante chiamato proprietario del club Questo ruolo non è gratuito Pagherai una quota di iscrizione per possedere un club Il motivo principale è che i club sono essenzialmente risorse preziose E possono potenzialmente valere molti soldi Come? Vediamo Nel nostro primissimo articolo abbiamo spiegato la storia di un club Rimani, i proprietari del club possono prendere il controllo di un club abbandonato Un club di bot Ma in alternativa il proprietario del club può anche vendere un club nel mercato di Mothma e incassare Ma perché qualcuno dovrebbe voler vendere il proprio club? Il motivo principale è che potrebbe trovarsi una divisione superiore Generando ricompense migliore che di per sé valgono una tevole quantità di netaro Notevole, l'hanno detto anche loro, il quanto sarà tutto da valutare Pertanto la proprietà del club, particolarmente di successo ai club di serie superiori È una risorsa preziosa Il ruolo di proprietario del club può essere combinato con altri ruoli nel club Come manager o giocatore Potete essere presidente allenatore, presidente allenatore e giocatore Tuttavia se ritieni che un manager esterno con più talento farebbe un lavoro migliore Per aumentare il successo del tuo club Puoi assumerlo In alternativa potresti non voler gestire la squadra quotidianamente e investire solo in un club Rendendolo un puro investimento che può portare a entrate reali Ti stanno dicendo, puoi comprare il club, lo lasci gestire a qualcuno e si spera che ti porti dei guadagni Abbiamo passato molto tempo a pensare ai club e a come rappresentarlo Quando giochi ad altri videogiochi sembrano tutti così simili Non c'è anima o unicità Pensando ai club durante il nostro lavoro sulle partite abbiamo scoperto che la differenza fondamentale tra i club sono i tifosi Senza di loro sarebbero solo squadre con colore di maglia diversi I fan non solo aggiungono significato a un club ma condividono anche ricordi, storie, etiche e identità comuni Tutto ciò sarà rappresentato nel gioco Per dimostrarlo basta fermarsi un attimo a considerare la differenza fra Liverpool e Manchester United Real Madrid e Barcellona Dortmund e Bayern Monaco e Boca Juniors e River Plate Semplicemente si sentono diversi In moto i fan saranno creature viventi, la linfa vitale del club si comporteranno e vorranno cose diverse per ogni club Avranno attributi, inclinazioni, simpatie e antipatie diverse Tuttavia i tuoi risultati o la mancanza di essi, i risultati e le azioni possono modificarli nel tempo In definitiva dovrai stimolare e rendere felici i tuoi tifosi in quanto forniscono ossigeno al tuo club Ovvero il tuo budget Con il tuo budget puoi acquistare nuovi giocatori, acquistare nuove strutture, aggiornare il tuo stadio, assumere più personale e fare molto di più In qualità di allenatore puoi preparare la tua squadra per la prossima partita, comprendere le vulnerabilità dei tuoi prossimi rivali E riunire i giocatori per le sessioni di allenamento per sfruttarli Sfruttarli qui sembra un po' brutto, exploit Vabbè Se non vuoi essere il proprietario e il manager di un club ma vuoi partecipare ad alcuni ruoli minori puoi farlo Puoi essere uno scout ad esempio Scout per il prossimo centrocampista difensore del club Aiutare l'allenatore come vice allenatore Essere il direttore sportivo e gestire la strategia a lungo termine Essere un agente, allenatore personale e molto altro Ci auguriamo che questa discussione su come funziona la gestione del club in Man of the Match ti sia piaciuta E ti entusiasmi le possibilità e ti prepari a portare il tuo club al successo globale Grazie per il tuo continuo supporto Le tue email e i tuoi messaggi sono molto utili e ci portano il vento sotto le ali Non vediamo l'ora di averti a bordo e speriamo che ci sia il nostro Man of the Match Con questo ragazzi ho concluso, vi ho fatto il quadro esaustivo e complessivo Della situazione attuale di Man of the Match Il primo trailer, le informazioni sui giocatori, le informazioni come saranno divisi i compensi Le informazioni sui club che avranno presidente, allenatori, altri ruoli Si parla anche dei commentatori e tutto quanto E vi ho parlato anche delle perplessità di alcuni influencer Vedremo, il progetto è ambiziosissimo Non c'è alcun tipo di dubbio Vedremo nel 2025 quello che accadrà Manca un anno e mezzo Sembra tanto, ma per un progetto appena nato non è neppure tanto Anzi a me sembra troppo poco Soprattutto pensando all'ambizione di questo progetto Vedremo ragazzi, seguiremo il progetto come facciamo con tutti i videogiochi di calcio Fatemi sapere cosa ne pensate E vi do appuntamento al prossimo video Ciao